Muoveva senza sosta il capo tra gli spasmi del respiro, mentre io cercavo di avvicinarmi quanto possibile, sgomitando tra la folla, finché riuscire ad arrivare quasi fino al picchetto di guardia, vicino alla soldataglia, che faticavano un poco a tenere a bada la ressa, senza staccargli gli occhi di dosso. Mi attraversò un brivido, mi pareva che parlasse, che volesse dirmi qualcosa di importante. Forse proprio qualcosa da tramandare al mondo prima di serrare le labbra per sempre, che aveva tenuto gelosamente per sé nelle segrete catene dell'inquisizione. O forse era pura follia la mia, ed erano quelle le convulsioni di un uomo che combatteva solo, come ogni uomo solo, quando è di fronte al proprio destino, stretto nella mordacchia che gli serrava la gola e che gli rubava sempre più l'aria scambiandola col fumo. E proprio in quelle nuvole di fumo che si alzavano dalla pira mi sembrò riconoscere le ombre di quelle idee che gli avevano popolato la mente e avevano strabiliato sovrani e dotti della terra per la sua portentosa memoria ed ora lo abbandonavano per colonizzare lo spazio. E quelle scintille che legno e carne accendevano nel fuoco dovevano essere senz'altro, le stelle che aveva scardinato dalle sfere fisse dove erano incastonate da millenni, ormai libere di disperdersi nel cosmo, a moltiplicarsi nell'infinità di mondi che lui stesso aveva creato. Cominciai a piangere addirotto e mi sembrò che lui avesse capito che io avevo capito e quasi ridesse per quella beffa estrema ai dotti e agli intransigenti della terra, quella terra così misera e piccola per quella mente sovrumana che il vento finalmente stava portando via per continuare ad alleggiare negli spazi eterei, animato dallo spirito che aveva respirato così profondamente in lui e il cui respiro ci aveva trasmesso, ammaestrandoci a spaziare col pensiero, a cogliere il segno dei numeri e il numero dei segni, non solo nel futuro ma anche nel passato.